A Fano è arrivato Pesciutta, il nuovo Risto Drive del Cuoco di Mare. Scegli il tuo primo di pesce, assaggia i fritti, i burger, le insalate e le nostre piadine. E per un pasto ancora più veloce, approfitta dei servizi drive e asporto. Vieni a trovarci a pranzo e a cena in via delle Querce 12. Io scelgo Pesciutta e tu www.pesciutta.it